La prima volta qua alla convocazione a Rimini, lei già fu ospite nel 2014 allo Stadio Olimpico portando la testimonianza della sua vicinanza a Papa Francesco come responsabile del rinnovamento a Buenos Aires. La domanda a caldo, l'impressione qua a Rimini, qua ci troviamo dopo il tempo di pandemia un convenire importante per i gruppi comunità del rinnovamento. Per me è un'esperienza molto gradita, molto forte perché io da 30 anni che ascoltavo che c'erano questi incontri a Rimini sempre ho voluto venire ma soltanto adesso è stata la possibilità. Per me è una grande opportunità dove si vede la gente partecipare così. Per favore andare avanti con questo ancora, abbiamo bisogno della 46, 47, 48? Anche Caris prosegue il suo cammino, sono prossimi i rinnovi, quindi cosa possiamo dire di questo cammino che vede impegnato il rinnovamento carismatico nel mondo? Dopo 56 anni di rinnovamento carismatico al mondo, arriva un po' l'opportunità, la mia età quasi, la maturità di offrire tutto questo che lo Spirito ci ha dato al rinnovamento carismatico a tutta la Chiesa e a tutto il mondo perché il mondo è bisognosi dell'annuncio di Gesù Cristo. Siamo bisognosi ma abbiamo anche necessità di formarci. Oggi durante il suo intervento è stato presentato anche il programma di formazione integrale. Possiamo spiegare a chi ci sta ascoltando via social di cosa si tratta? Questo è molto importante perché... Perché dobbiamo formarci? Perché il mondo è cambiato. Quello che noi pensavamo che era il modo di parlare alla gente e anche i problemi della gente adesso sono diversi. Perciò è necessario formarsi per farlo bene perché il messaggio di Gesù arrivi alla gente nel modo che oggi possono ascoltare. Molto interessante nel sinodo che c'è il capitolo del sinodo digitale. Questo dobbiamo essere attenti. Cosa voglio dire? Che la nostra mente arriva ai confini delle mappe che noi abbiamo in testa. Ma c'è un mondo dopo il mappa e dobbiamo arrivare anche lì. La tenda è anche fuori il mappa.